Adesso passiamo all'angolo dei mondi diversi, quindi condivido il mio schermo e parliamo, ecco che condivido il mio schermo, parliamo di quanto di storia di Alida Ai Raghi. Quindi in lettura, in questa settimana, fino a questo sabato, c'è questa bellissima raccolta poetica pubblicata da Marco Saia, editore negli ultimi mesi del 2023, e stiamo parlando di una raccolta poetica che è candidata al premio Strega per la poesia. I versi di questa poetessa sono estremamente crudi, è una poesia civile, una poesia che mette al centro le critiche aspre verso la storia, soprattutto quella italiana. E quindi all'interno di questa silloge possiamo individuare versi, strofe, dedicate prevalentemente alla nostra storia, alla storia italiana, ad alcuni episodi chiave che hanno inevitabilmente condizionato la storia italiana contemporanea. Ci sono delle profonde riflessioni, effettivamente il lettore rimane stupito dalla bravura di Alida Ai Raghi e soprattutto rimane stupito dal fatto che possa essere messa al centro del dibattito, al centro come tematica, alla storia, alla storia sfruttando il medium della poesia, qualcosa di interessantissimo, che effettivamente nella poesia contemporanea non è frequente, e quindi per chiunque volesse fino a sabato commentare questa raccolta poetica con il blog presente su X, ormai ex Twitter, mondo diversi, gestito dal caro amico Arturo De Luca, può farlo tranquillamente. Mentre per chiunque volesse provare a recuperare, a leggere questa stupenda silloge, potete procurarvela andando sulle varie piattaforme dedicate alla compravendita, all'acquisto dei vari libri. Interrompo adesso la...